L'ipotesi di un'apertura il 27 marzo in zona gialla, come l'ha presa? Con entusiasmo perché finalmente c'è un orizzonte di riferimento. Chiaramente noi abbiamo lavorato tutto questo periodo sempre per produrre, preparare, farci trovare pronti. Abbiamo almeno cinque spettacoli pronti. Persino durante la guerra alla Pergola si andava in scena tutte le sere, chiuse solo durante i bombardamenti. È esattamente un anno che invece il Covid ha spento il teatro, ma solo formalmente, perché l'attività è continuata. Stiamo comunque prevedendo una riapertura anche simbolica. Il 27, qualora non fosse possibile aprire le porte, avere il pubblico, faremo una cosa in streaming, probabilmente dedicata a Dante. Noi nell'ultimo anno abbiamo perso 3 milioni e 900 mila euro di ricavi, ma lo Stato ha continuato a mantenere il contributo, i soci hanno continuato a mantenere i contributi e questo ci ha permesso di rivedere radicalmente le nostre attività per farle in economia, con la stessa qualità. L'importante, sottolinea Giorgetti, è essere pronti per un nuovo incontro col pubblico. 200 spettatori al massimo, quelli permessi in ambienti chiusi, a fronte dei circa mille che potrebbe ospitare il teatro. E non è escluso che ci possa essere anche un cambio di orario, se perdurasse il coprifuoco delle 22. Lo faremo come ha fatto Parigi, il Teatro della Ville, col quale siamo consociati, c'è un partenariato, quando hanno riaperto hanno fatto spettacolo alle 19. Con sorprese molto positive, le persone hanno apprezzato, c'è stato teatro, c'è stato movimento e quindi questo orario sicuramente potrebbe essere un orario di riferimento. Vediamo.